Buongiorno, siamo nella sala consigliere di acquiterma con l'architetto Cova e l'ingegner per pilloni. Questa mattina, come dicevo anche all'architetto, mi è sembrato di assistere ad un telefilm del futuro, un telefilm di quelli a cartoni animati. Giusto per farvi un esempio di due secondi, poi do le parole a loro che sono veramente i protagonisti della mattinata. Una persona che vuole una macchina spendendo 10 euro, una macchina che vada ad acqua, che porti 7 persone, un bagagliaio fantastico, ma la vuole anche domani. Stiamo parlando però di scuole in un periodo in cui buona scuola, non buona scuola, edifici scolastici, ci sono dei grossi problemi. Architetto, a lei la parola, di che cosa si tratta? Siamo ad Acquiterme e costruirete le scuole medie. Si tratta di una scuola che è stata progettata in maniera completamente differente. Ci siamo posti, il primo pensiero era chi c'entrava, quindi i ragazzi. Che valori volevamo dare? E questo ha trasformato il progetto di una scuola in una macchina, fondamentalmente come ci ripetevamo prima, perché doveva funzionare bene, doveva dare dei valori, doveva fare stare bene le persone che c'erano dentro. E abbiamo prodotto un qualcosa che è stato possibile proprio che si sono mischiati due modi di vedere. Qui vedete un architetto, qui c'è un ingegnere. L'ingegnere è riuscito a tradurre una serie di valori, una serie di funzioni che erano state prime espresse dall'architettura in una macchina fantastica, fatta in maniera diversa. Come è stata la progettazione di questo che viene basata su un cristallo d'acqua per dare una certa ammonia a questa scuola? La stessa cosa, i materiali che vengono utilizzati e le tecniche sono stati rielaborati dallo studio di progettazione GP Project da un'antica conoscenza che veniva dai coloni dell'Embrasca, fino a essere trasformati in una prefabbricazione talmente prestante che ci permette di dire che queste scuole sono quasi passive. Questo ve lo spiega meglio però l'ingegnere Piloni che è bravissimo su queste cose. Ecco, allora gli passiamo la parola perché, come diceva l'architetto, a lei spiegare in concreto che cosa poi verrà fatto. Certo, noi dovevamo centrare degli obiettivi temporali di budget, quindi indubbiamente dovevamo analizzare quelli che erano i requisiti del bando che l'amministrazione comunale ha pubblicato e l'abbiamo fatto stravolgendo un po' il principio della progettazione tipica. Quindi abbiamo deciso di non utilizzare dei materiali canonici come il calcestruzzo armato, l'acciaio, ma abbiamo preferito utilizzare dei sistemi prefabbricati in legno lamellare che ci permettono di centrare sicuramente gli obiettivi temporali e di budget. Inoltre abbiamo deciso di lavorare molto su un involucro edilizio, quindi muri e coperture e solaio contro terra altamente performanti che ci permettono di consumare poca energia. Quindi l'energia che consumiamo, peraltro, l'autoproduciamo con sistemi fotovoltaici che verranno installati in copertura a circa 400 metri quadri di pannelli per ogni singolo edificio. Ci sarà ad esempio il recupero dell'acqua piovana con la quale alimenteremo le cassette dei WC, dei bagni, alimenteremo la vasca di raccolta dell'impianto di spegnimento antincendio e inoltre utilizzeremo quest'acqua per l'innaffiamento dell'orto sinergico della Food Forest e tutti gli utilizzi che si possono pensare all'esterno. Praticamente chi ha ascoltato la vostra rappresentazione, architetto, giusto per... È una scuola che costa nulla l'energia? Come gestione, sì, come gestione, ritornando a quello che diceva Gianpaolo, mi sembra come valori il 73% dell'energia consumata viene da fonti rinnovabili. Inoltre credo che noi come spese di... Diciamo l'esempio che faceva l'ingegnere sulla questione di quanto poteva essere utilizzato come caldaia per questa struttura, consuma come un appartamento fondamentalmente. 2800 metri quadri consumano quanto un appartamento. Quindi su quella dimensione un consumo quasi nullo. 15 aule, 400 e più bambini, giardini, aule multimediali... La cosa che diciamo è molto è sull'esterno. Cioè l'esterno che noi abbiamo pensato integra, cioè quello che è tutto il progetto. Se immaginate che quindi ci sarà questo bosco commestibile, Food Forest, l'orto sinergico, un campo multifunzione in cui ci saranno calcetto, basket, una pista d'atletica, tutto il verde intorno in cui vengono fusi poi il parco sonoro che si collega con quello che è l'atrio centrale. Non so se l'avete notato che è circa 700 metri che potrà essere usato per altre funzioni come quelle di mostre, concerti e tutt'altro. Quindi vedete come si mischia un esterno e un interno e come questo oggetto diventa una macchina funzionale anche per la città. Questo è stato il nostro intento. Per la parte pratica, chiudiamo col geometra, parlavamo che l'unico neo, ma non neo perché è un neo, ma perché comunque la gente potrebbe vederla come un neo il fatto dello pseudo prefabbricatro. In realtà è un sistema che viene utilizzato in paesi come il Nord Europa, come il Canada e il Giappone, quindi sono sistemi altamente performanti con alta sismo resistenza, quindi sono sicurissimi. In più sono sovradimensionati rispetto ai requisiti minimi normativi, quindi non c'è assolutamente di che temere, anzi sono indubbiamente gli edifici più sicuri che si possono ipotizzare, progettare e costruire per i bambini. Ecco, per chiudere veramente, mi diceva l'architetto che è un centinaio di anni che esiste questa tipologia di fabbricazioni. Diciamo che come tradizione in Italia si è sempre costruito in mattone e legno, quindi questo noi ce l'abbiamo. Il vestire sul mattone, il vestire sul legno. Però in Nord Europa, soprattutto in Nord America, queste case, lo vedete anche nei film, queste casettine, queste strutture ci sono da tanto. È cambiato qualcosa? A Milano in questo momento sono state fatte, mi sembra, una torre da nove piani con struttura portante in legno. Questo ha sdoganato questo tipo di tecnologia, quindi abbiamo dei preconcetti su questa tecnologia, ce li toglieremo perché funziona molto meglio di quella che abbiamo noi adesso. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Grazie a voi.